Un uomo di Gorizia di 64 anni è caduto mentre stava effettuando una rampicata in Falesia a Doberdò del Lago. All'improvviso ha perso il controllo facendo un volo nel vuoto da un'altezza di 5 metri arrivando fino al suolo. A portargli soccorso i tecnici della stazione di Trieste del soccorso alpino e speleologico, i vigili del fuoco, l'ambulanza, il personale dell'auto medica, i carabinieri e l'elisoccorso regionale, allertati da Sores su chiamata al numero unico 112. I soccoritori sono arrivati sul posto avvicinandosi in auto e poi percorrendo 5 minuti a piedi. Sei tecnici del soccorso alpino hanno aiutato l'equip medica dell'elisoccorso nell'operazione di imbarrellamento. L'uomo ha subito diversi traumi ma non è in pericolo di vita. La barella è stata avvicinata a bordo dell'elicottero con successivo trasporto in ospedale.